Un omaggio a Pietro Antonio Cesti, compositore a rettino nel 350esimo anniversario della morte. Prosegue l'Arezzo Raro Festival sul palco della Casa della Musica all'Assembla Sezione Aurea che si è esibita nello spettacolo Tiranno Amor, Aria ed Amor negato nella Venezia del XVII secolo. Abbiamo fatto un concerto in onore di questo compositore di Arezzo che si chiama Antonio Cesti, un compositore del primo Seicento italiano e abbiamo fatto questo recital, questo concerto. Coinvolgendo anche brani di questo autore qua e contemporanei italiani sempre di questo tipo di repertorio, quindi musica per voce e basso continuo che era la forma diciamo più classica di composizione musicale per la voce a quell'epoca. Il mondo della musica antica mi ha preso, mi ha preso lui, mi ha preso perché amavo tantissimo quel genere e perché c'era bisogno. C'era bisogno di clavicembalisti che accompagnassero, di clavicembalisti a differenza dei pianisti classici che suonano le note che sono scritte dai compositori, spesso improvvisano. Ed è una cosa che mi è sempre venuta naturale, che mi è piaciuta fare fin da subito e alla fine qualcuno me lo chiedeva e poi poco alla volta mi sono trovato a passare le giornate ad accompagnare cantanti. Grazie. Grazie.